Questa mattina alla Sassogna di Fano si sentiva solamente il rumore delle onde del mare e della gru del motopontone al lavoro per la conclusione delle due scogliere incompiute nell'ultima parte della spiaggia. Lavori in corso per il penultimo tratto delle barriere frangifrutti rimaste in sospeso dallo scorso anno. Questi lavori che dureranno al massimo un paio di settimane dovrebbero terminare appunto nei tempi tali che insomma non ci siano problemi alla balneazione e alle attività turistiche. È chiaro che l'impegno dell'amministrazione per Sassogna è quello di coprire tutto il setto, tutto il paraggio. Una volta conclusi questi due pezzamenti si passerà all'ultima parte ovvero quella davanti ai bagni Carlo e a fianco della passeggiata dell'Isippo mettendo così fine all'erosione della spiaggia durante le forti mareggiate. Dunque ci siamo impegnati per realizzare una nuova scogliere in aggiunta a questa più piccola, più corta che protegga sia questa parte di spiaggia qui alla Sassogna sia la diga foranea del porto e se la regione manterrà gli impegni che insieme al Comune di Fanno si è presa potremo farcela anche se sarà effettivamente una corsa contro il tempo che dovrà tenere conto sia della possibilità di finanziamento ma anche della disponibilità di materiale e della possibilità inoltre anche di lavorare durante il periodo insomma quando la gente verrà al mare quindi giugno. E quindi però su questo siamo fiduciosi perché pensiamo che senza questa scogliera ci potrebbero essere dei problemi all'infrastruttura che il Comune di Fanno ha compresa la diga foranea e anche la passeggiata dell'Isippo. Inoltre ha aggiunto l'assessore abbiamo avuto un finanziamento per concludere a breve la rifioritura delle scogliere in zona Bersaglio nella zona dell'ex pista go-kart. Con questa operazione insieme a quella di Sassogna Nord metteremo finalmente fine ad una situazione gravosa per tutto il tratto di spiaggia. Vorrei ricordare che vanno avanti speditamente i lavori che sono iniziati già a Metauriglia con la stessa ditta che fra l'altro sta facendo i lavori qui e ci auguriamo insomma che entro la fine dell'anno possano essere chiusi. Ma i problemi non sono solo a Sassonia infatti l'assessore ha elencato anche i prossimi interventi in altri punti della costa fanese. Ponte Sasso a cui verrà fatto un piccolo lavoro di messa in sicurezza di alcune scogliere entro l'estate e poi i problemi ci sono in molti altri posti della città come al nord dell'Arzilla, a sud del Metauro, appunto Ponte Sasso sto pensando in particolare, tutti i lavori che abbiamo messo in programma che speriamo di poter fare intercettando i fondi PNRR che potrebbero essere messi a disposizione della regione a questa città.